ciao ragazzi benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi sono fox e oggi parliamo di mini eolico dopo il fotovoltaico da balcone ragazzi ora c'è una nuova moda il mini eolico da balcone ma in cosa consiste e conviene o non conviene allora ragazzi io sono uno di quelli che ha sempre puntato sull'eolico perché secondo me ragazzi l'eolico è un'eccellente alternativa al fotovoltaico o meglio non la vedo come tanti in una vera alternativa cioè o quello o l'altro per me ragazzi il l'eolico è un surplus in più che noi possiamo andare ad aggiungere al nostro impianto fotovoltaico abbiamo il fotovoltaico di notte non produce però di giorno produce l'eolico può produrre il giorno può produrre di notte però tu mi dirai fox ma io non ho spazio dove mettere i pannelli cosa devo fare come devo fare per risparmiare un po sulla bolletta ragazzi un bel mini eolico da balcone è quello che ti serve i kit te li lascio sotto in descrizione grazie alla collaborazione con lo sponsor che prossimamente vedremo in mano testeremo in mano e anche io in prima persona ragazzi andrò a montarmi un bel mini eolico dice si mini eolico quei generatori che funzionano con il vento e hanno una potenza che va da circa 100 a circa 3000 watt ok rientrano nel mini eolico e l'installazione su tettoie terrazze cortili terreni balconi ovunque ci sia un buon supporto dove ancorare la pala eolica esistono pale eoliche verticali e orizzontali personalmente mi piacciono quelle verticali per vari fattori uno è quella che il sistema orizzontale un po più complesso un po più pericolosetto anche se se devono esserci incidenti ragazzi ci sono in entrambi i modelli sul link che ti metto sotto meglio te ne metto qualcuno troverai paleoliche da 12 48 e 24 volt poi tu dovrai scegliere sia le potenze perché hai la possibilità lo sponsor ti da la possibilità di scegliere sia la potenza dell'impianto che la tensione di esercizio oltre la paleolica che sia verticale che sia orizzontale che sia cinque pale che sia tre pale che sia quattro pale perché ragazzi ne esistono tanti modelli lo sponsor è uno dei produttori più grandi che ci sono in asia sono specializzati in questo settore ragazzi e fanno i generatori eolici dalla mattina alla sera e in quantità industriali tante offerte tanti modelli cosa serve oltre il vero e proprio generatore rotante controller controller carica loro te ne mettono a disposizione qualcuno ti mettono un normale mppt che non è altro ragazzi che una scatoletta in alluminio che va collegata i tre cavi del generatore da un lato e due cavi che sono quelli che ti ricaricheranno la batteria il generatore funziona in corrente alternata appunto tre cavi questa scatoletta in alluminio te la trasformerà in corrente continua in base poi se 24 12 o 48 volt lì potrai direttamente andare a collegare un pacco batterie ok perciò il generatore eolico da balcone necessita per l'uso anche di un pacco batterie da ricaricare e poi quel pacco batterie da ricaricare andrà connesso un inverter l'inverter sarà quello che ti alimenterà i due carichi o in alternativa se deve alimentare per esempio un impianto elettro che in corrente continua potrai alimentare le tue luci o i tuoi carichi in corrente continua ripeto sotto in descrizione link ragazzi se vi piace il video lasciatemi un like prossimamente vedremo altri video dedicati questo serve solo per farvi vedere appunto varie tecnologie di generatore eolico farvi vedere i prodotti dello sponsor e lasciarvi sotto in descrizione appunto se vi interessano tutte le loro offerte ci sono sconti anche del 30 del 25 del 40 per cento in base alla tipologia di generatore eolico niente ragazzi per questo video è tutto io ti ringrazio da fox è tutto dal bunker di fox sempre in work in progress ciao e al prossimo video